buongiorno a tutti la terza tecnica per poter migliorare dai 5 q è il sabacchi sabacchi è una parola molto difficile da tradurre però possiamo anche qui trovare una un'ottima approssimazione fare sabacchi significa riuscire a sistemare un piccolo gruppo di solito il gruppo è molto piccolo nel territorio avversario con un eventuale light play quindi l'obiettivo è quello di cercare di fare sì una riduzione però cercare di evitare di creare un gruppo che deve scappare verso il centro perché ogni gruppo che scappa verso il centro è comunque difficile da gestire mentre se per caso si riesce a creare una base un gruppo chiaramente vivo dentro il territorio dell'avversario è molto più semplice poi dover ridurre il territorio dell'avversario l'esempio più semplice di sabacchi lo possiamo vedere in questa situazione vedete che la pietra del bianco è praticamente circondata e semplicemente qui la prima mossa che viene in mente probabilmente è questa probabilmente anche se riesce a salvare tutto perché probabilmente scappando verso il centro queste pietre riescono in qualche modo a creare i due occhi però questo è un modo di giocare quasi sempre non ottimale un modo di fuggire molto approssimativo che spesso e volentieri porta alla creazione di molti punti da parte dell'avversario vedete anche se l'avversario non conosce chissà quali tecniche vedete che gioca delle mosse molto intuitive che gli permettono di attaccare il gruppo e nel contempo stabilire una posizione sia a destra che a sinistra molto forte nel frattempo appunto il bianco vedete ha ridotto di qualche punto è vero però non ha ancora due occhi e men che meno si può pensare di creare qualche punto con questo con questa tecnica invece se si vuole giocare sabacchi si deve essere pronti a giocare mosse di questo genere capite bene che non è non è semplice giocare in questo modo cioè scappare verso il centro probabilmente è una tecnica che conoscono quasi tutti mentre cercare di creare un gruppo stabile qui dentro naturalmente può essere molto più difficoltoso adesso non vogliamo cercare di capire qual è la miglior mossa a disposizione del nostro avversario però ecco che si può vedere il sabacchi con questa variazione qui questo è un ohane peraltro molto corretto e che cosa succede qui beh se per caso si volesse tornare indietro ecco che il nostro avversario vincerebbe perché beh perché questo gruppo qua non può trovare una base grazie a questa pietra questa pietra nera impedisce l'estensione del gruppo e quindi siamo tornati a giocare un gruppo floating una roba che scappa verso il centro ecco che quindi quando noi giochiamo una roba di questo genere non stiamo facendo sabacchi stiamo cercando di giocare delle mosse quasi sempre pesanti che non portano spesso a nulla quando si vuole scrivere sabacchi bisogna cercare di giocare mostre di questo genere che a prima vista anche per un giocatore che ha comunque una certa esperienza diciamo tra i 5 chiù e i 10 chiù questa mossa qua può sembra strana perché beh perché viene in mente subito di dire e vabbè se se faccio attare in questo modo che cosa fai e beh naturalmente connetto e adesso a pensarci bene cioè pensando una mossa in più adesso abbiamo un miai tra q4 ed s4 non si possono parare entrambi vedete che se per caso il giocatore col nero chiude da questa parte ecco che bianco cattura in una rete questa pietra questa questa pietra non può fuggire se per caso facciamo questo non andiamo da nessuna parte e questo gruppo naturalmente è vivo c'è bisogno di di sforzarsi chissà che mentre se per caso appunto se volessi evitare la la rete ecco che il gruppo è assolutamente a posto ecco che abbiamo creato un piccolo gruppo vedete che ha fatto sabacchi abbiamo dovuto naturalmente perdere qualcosa per strada questa pietra naturalmente persa lo vedete che abbiamo ridotto il territorio era molto grande questo territorio qua del nero era molto grande l'abbiamo ridotto però con un gruppo assolutamente stabile e vivo ecco che a questo punto qui abbiamo giocato una mossa quasi sempre migliore di quella di fuggire verso il centro proviamo a vedere un'applicazione molto interessante estremamente interessante del sabacchi vedete che è una posizione assolutamente normale e adesso naturalmente si può discutere su quale sia la mossa migliore eccetera eccetera però proviamo a capire che cosa significa fare sabacchi questa è la mossa che probabilmente molti giocherebbero perché beh perché si cerca di fare una pinza su questa su questa pietra e naturalmente si vuole anche invadere questa può essere una risposta ancora una volta si può discutere su quale sia la mossa migliore quello che volete voi però questa è una mossa comunque corretta adesso che cosa viene da giocare beh il primo istinto è di fare questo quando si fa un'invasione poi si scappa verso il centro abbiamo visto in qualche altro contenuto è una mossa che sicuramente per essere un giocatore q non è così tanto criticabile però è una mossa che comunque non è quasi mai ottimale perché questo tipo di mossa qua ha quasi sempre un'alternativa migliore quindi cancelliamola e l'alternativa migliore questa questa mossa qua crea un sabacchi proviamo a guardare la sequenza mossa spontanea poi le vedremo tutte non preoccupatevi questo hane e adesso che cosa si gioca anche qui molti farebbero probabilmente questa mossa forse questa mossa però ancora una volta vuol dire che non stiamo andando nella direzione corretta questo è fare sabacchi questo è fare questa scaletta quasi sempre si gioca questa scaletta questa è una forma da ricordare perché questo fa veramente la differenza quando si gioca questa scaletta qua quasi sempre si sta giocando una mossa corretta poi naturalmente c'è pieno di eccezioni quello che volete voi però quasi sempre questa struttura qua è favorevole al giocatore vedete che la che la inizia proviamo a guardare prima cosa spontanea atari naturalmente c'è il proverbio che dice il giocatore vuole prima di tutto dare atari poi naturalmente questo atari qua può portare a un nulla di fatto ma l'importante per molti giocatori è fare atari e poi pensare ovviamente questa questa modalità di gioco è chiaramente errata ma poi dobbiamo guardare perché naturalmente connetto e adesso naturalmente devo catturare questa pietra atari bisogna connettere e naturalmente siamo presi in una scala e chiaramente a questo punto il vantaggio il vantaggio di aver giocato questa questa questo sabacchi è naturalmente molto evidente che cosa può succedere vedete questa è la scala scusate questa è la scala quindi naturalmente un vantaggio ma anche se per caso la scala non funzionasse cioè per qualche ragione questa scala non funzionasse va bene lo stesso perché comunque c'è almeno questo squeeze vedete il giocatore costretto a uscire c'è quest'altra mossa che praticamente sente perché altrimenti ci si prende diciamo uno squeeze di questo tipo vedete che veramente a volte può essere una cosa di questo genere cioè questa struttura qua non va mai non va mai permessa quindi di sicuro bisogna giocare questa questa estensione ed ecco che si può giocare tra le mille mosse a disposizione non è questa oppure questa dipende naturalmente però è evidente che queste pietre qua non possono più essere catturate e sono entrate abbastanza bene nella posizione del nostro avversario quindi questa sia che la scala funzioni sia che la scala non funzioni comunque il risultato è eccellente qui potevamo giocare però quest'altro atari che sembra anche più forte poi ovviamente non è così si connette e come si vede bene adesso ci sono troppi cutting point quindi prima o dopo qualcosa deve succedere per il giocatore che ha iniziato questo sabacchi proviamo a vedere questa situazione qui proviamo a immaginare che il giocatore che conduce i neri provi a fare un taglio ok c'è questo atari atari e come minimo e come minimo c'è questo come minimo questo è un atari su queste due pietre proviamo a fare un contro atari ma naturalmente c'è come minimo ancora una volta questo c'è di meglio ma naturalmente proviamo a fare il minimo che c'è a disposizione naturalmente vedete che il gruppo è subito vivo perché se per caso si giocasse questo c'è comunque questa connessione e ci sono due occhi molto semplici da creare per chi ha iniziato i sabacchi qui se per caso ci fosse un tentativo di togliere qualche occhio va bene naturalmente c'è questo ed è evidente anche in questo caso che il giocatore che ha iniziato i sabacchi sta sicuramente molto bene qui si poteva giocare anche quest'altra mossa si può tentare di connettere per stavolta sì fare cut in maniera abbastanza decisa non c'è problema si fa si connette e a questo punto qua la forma è già viva questa forma qua è già viva non si riesce a fare niente perché c'è comunque questo cutting point che permette la creazione di eventuali occhi da questa parte però prendiamo per esempio questo qui c'è questo se per caso beh naturalmente la mossa spontanea è se questo naturalmente come dicevo c'è un occhio come minimo qui ma se per caso questa pip qua volesse togliere la possibilità di fare occhi qua c'è come minimo questo e vedete che c'è un occhio qua e naturalmente un altro lo creiamo qua sotto quando vogliamo cioè minimo ancora una volta come minimo c'è questo non serve niente a fare questo perché chiaramente si connette naturalmente questo ripeto crea un occhio da questa parte qui non si riesce a fare niente per il giocatore con il nero nemmeno in questo caso quando eravamo arrivati qui si poteva fare allora questo perché in qualche modo si cerca di evitare che che iniziatore sabaki sfrutti tutti i cut a disposizione ma non succede niente perché c'è questa tari e come minimo questo ora se per caso c'è la solita pip si può giocare come minimo ancora una volta questo se per caso si vuole evitare che ci sia un'estensione su questo lato va bene creiamo il solito occhio oppure scappiamo ma chiaramente l'avete capito qui c'è sempre un double hane però si vede si vede già a occhio che questo non funziona qui veramente uno si può sbizzarrire perché questo doppio hane mette pressione ma ci sono troppi cut a disposizione c'è come minimo questa questa e questa proprio proprio ci fosse qualche problema vedete che qua sotto è facile creare almeno un occhio e anche qua un altro occhio ma naturalmente se proprio proprio non si può uscire c'è come minimo questa protegge tutti i cut questa naturalmente è spontanea però vedete che subito è facile creare occhi per i giocatori è molto semplice questa è una variazione tra le mille possibili ecco quindi non ci vuole granché nemmeno a trovarle questa poi poteva succedere questa mossa qui sembra una mossa lenta però in realtà protegge molti molti cut e bisogna stare un attimo attenti poi si gioca questa vedete che crea un grande potenziale per gli occhi vabbè si gioca così estensione adesso due possibilità se per caso si chiude da questa parte vabbè come minimo c'è questa e chiaramente il gioco è molto semplice molto molto semplice se per caso qualcuno dice ma allora giochiamo questo atari va benissimo esattamente come accadeva prima questa forma è assolutamente tranquilla viva chiudiamo da questa parte va bene andiamo dall'altra chiudiamo da quest'altra andiamo dall'altra o usciamo non c'è problema impossibile catturare questo gruppo e naturalmente tutti i punti sono stati persi poi che questa thickness qua sia interessante ne possiamo discutere finché volete voi stavamo parlando del sabacchi come concetto generale arrivati qua potevamo dire sì vabbè però se per caso uno faceva questa mossa qua questa mossa qua è quasi sempre lenta è vero che crea meno cut però il giocatore può tranquillamente almeno giocare questa come minimo 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 questa però ce ne sono anche altre c'è questa ci si può sbizzarrire insomma qui questa è facile se per caso ci fosse questa va bene appunto minimo questa facile facile se ci fosse questa che buttata lì sembra quasi strana come mossa però in realtà questa mossa qui è abbastanza forte abbastanza naturalmente non non ha conseguenze non ha conseguenze per chi ha iniziato il sabacchi però va conosciuta c'è come minimo questa vedete c'è l'estensione questa è sente perché se no bianco estende ecco che questa ancora una volta è sente contro questo gruppetto cioè si minace il turn di catturare queste quindi questa forzata atari e vabbè c'è questa qui il sabacchi si vede ancora di più abbiamo costruito questo gruppo abbiamo sacrificato qualche pietra sicuramente ma questa pip qua non porta da nessuna parte c'è questo squeeze in qualche modo nero deve catturare e poi naturalmente questo gruppo qua è vero che non si è proprio proprio stabilizzato nella posizione del dell'avversario però è anche vero che stavolta è molto più semplice vedere che questo gruppo è a posto è chiaro che si può anche giocare così eh e poi cercare di di in qualche modo di creare un gruppo sulla seconda linea si riesce perché perché ci sono anche qua tante possibilità per creare gli occhi come minimo questa ma anche altre provate a trovarvele voi quindi è importante capire che in questa posizione ecco che una mossa come questa va conosciuta per poter migliorare